E' un risveglio molto amaro quello del 3 febbraio del 1998 per il Cermis e per tutto il Trentino. Un aereo in un gioco di guerra, come venne definito al tempo, trancia la fune della funivia del Cermis. Funivia del Cermis che 22 anni prima era già crollata drammaticamente, portando a 42 morti, un bilancio terribile. Ebbene, 22 anni dopo, un'altra tragedia, 20 morti. Un aereo che i Marines portavano spesso a quelle altitudini, ovvero molto basso, lungo la valle di Fiemme. Già da tempo si lamentava la popolazione dicendo che si sentivano gli strani rumori, che accadevano delle strane cose in quella zona. Ovviamente i Marines smentivano, ma quella volta è accaduto l'imprevedibile. Sulla funivia c'erano appunto 20 persone, per cui probabilmente il cavo era più basso del solito e l'operazione, quel gioco perverso e tragico, non è riuscita alla perfezione. Per cui la fusoliere dell'aereo è rimasta in parte attaccata a quel cavo, poi è stata trovata lì sotto, per cui era difficile dimostrare per i Marines che non ci fossero questi giochi di guerra. La cosa più tragica è che in una vicenda molto lunga, che portò la provincia autonoma di Trento a Washington a discutere col governo americano, l'interesse del ministro della difesa di allora, che guarda caso era un trentino, il ministro Beniamino Andreatta, del governo Prodi. Ebbene tante, tante parole, tante discussioni con l'America, ma l'America in tre anni, pensate, riuscì la corte marziale ad assolvere i militari che erano a bordo, a cominciare dal comandante Ashby che guidava quell'aereo tragicamente schiantatosi contro quella fune. Ebbene grandi risarcimenti, 4 miliardi per ogni vittima di quella sciagura, però davvero poca giustizia. Ed è interessante capire ancora una volta quanto delicati siano i rapporti fra Italia e America quando ci sono dei problemi di questo tipo. Spesso capita che un americano che commette qualche cosa di tragico in Italia, poi non venga condannato, o comunque torni in America e abbia dei processi simili a una farsa. Quei giochi di guerra hanno cambiato profondamente anche la valle, è cambiato quell'impianto che oggi non è più una funivia, è un impianto molto più basso. Hanno un po' riportato alla vita, però non si può dimenticare nella morte di quei 20 turisti, nella morte dei 42 turisti di 22 anni prima. Ecco quello che resta della cabina numero 1 della funivia del Cermis, vicino a Cavalese, in provincia di Trento. I soccorritori descrivono scene agghiaccianti, irriconoscibili i corpi delle 20 vittime.